Ciao, i messaggi dal cuore. Ti sarà capitato? Capita, penso un po' a tutti, no? Di camminare e trovarci magari un trifoglio che ha i petali a forma di cuore. Vedere nella cortaccia di un albero, un cuore, mostrarsi. Oppure siamo semplicemente in auto e ci passa un furgone con un'insegna pubblicitaria, un cartellone dove c'è la scritta cuore o l'immagine, il disegno di un cuore. Tante volte possono essere i simboli che noi incontriamo e che sono un po' dei messaggi che ci richiamano l'attenzione, come guida, come un accorgerci per aiutarci nell'interpretazione della nostra giornata di quel momento. E quindi oggi ho pensato di parlarvi di questo simbolo del cuore, giusto perché mi metto a cucinare ed esce il cuore da quest'asse di legno e vado in bagno, cade un cappello nel lavandino e si mette a forma di cuore. Esco a fare sistemare le mie piante e trovo un sasso a forma di cuore che magari l'avevo posizionato e non mi e quindi c'è un richiamo, c'è un richiamo a questo messaggio. Che cosa ci può dire questo simbolo che poi molto spesso lo usiamo, questo simbolo del cuore, fatto con l'amore, fatto con il cuore. Quindi questo simbolo vi richiama l'attenzione e che cosa ci potrebbe suggerire? Ci può suggerire di seguire il nostro cuore, un po' come sentiamo anche in tante frasi di scrittori, poeti. Seguire il proprio cuore, seguire quello che abbiamo nell'anima, seguire i nostri desideri, i nostri analiti e seguire quello che desideriamo. Oppure ascoltare il cuore, ascoltare il cuore che magari a volte non riusciamo a sentire perché siamo un po' influenzati dal vociferare esterno delle altre persone o semplicemente perché siamo presi da tutto il nostro quotidiano, dal fare, dal dovere, dalla fretta e allora magari non riusciamo neanche trovare quello spazio un pochino silenzioso, quei dieci minuti per poterlo ascoltare perché siamo di corsa. O forse non lo ascoltiamo perché magari invece abbiamo paura di sentire quello che ci direbbe e andrebbe in contrasto, in conflitto con dei doveri, con dei sensi di colpa, con delle preoccupazioni. Allora lo mettiamo lì in un angolino e diciamo vabbè me lo ascolto domani. Metterci il cuore. Questo simbolo potrebbe venirci in avanti per dirci metti il cuore in ciò che fai, metti il cuore nel tuo lavoro, metti il cuore nella tua famiglia, metti il cuore nelle tue relazioni, metti il cuore che significa partecipare, l'empatia, la compassione, non il compatimento, ma vivere con passione l'altro. E non significa identificarsi, no? Perdersi, semplicemente sintonizzarsi sulla stessa frequenza per quel momento. Sapersi metterne ai panni degli altri, metterci il cuore mentre cucini, i piatti saranno più buoni, saranno amabili, metti il cuore mentre ti lavi i capelli, metti il cuore mentre ti fai un massaggio, metti il cuore mentre carezzi il tuo gatto, metti il cuore mentre racconti la fiaba il tuo bambino invece di lasciarlo da solo in cameretta, metti il cuore quando ascolti, ascolti l'altro. Oppure ci potrebbe dire questo messaggio, questo simbolo che ci viene in avanti e che ci si mostra ai nostri occhi, oppure almeno la nostra attenzione oggi se ne accorge che forse dobbiamo amare il nostro cuore. E allora pensiamo al nostro cuore come se fosse il re del nostro reame, no? Noi fossimo un territorio, un regno e nel cuore alberga il re e quest'ora deve essere felice perché altrimenti il regno funziona e basta. E invece deve essere, deve vivere di passione, deve vivere di felicità, deve vivere di gioia, deve partecipare alla vita, non solo funzionare. E quindi amare il proprio re, amare il proprio cuore e dargli l'importanza, dare importanza al nostro cuore. A volte diciamo che ci manca l'amore, ma poi quanto importanza gli diamo a questa parola. E così è il nostro cuore, diamo importanza al nostro cuore. Ascoltiamolo. Ogni volta che magari si fa sentire una tachicardia, un'ansia, è lui che ci parla e ci dice attenzione questa cosa non mi piace tanto. Oppure sono sovraeccitato. Oppure ci sono le palpitazioni da emozione di quando si incontra una persona dopo tanto tempo che fa sussultare il nostro cuore, che ci fa sentire quel senso di vuoto nello stomaco per un attimo, ma è felicità. Quindi amare il nostro cuore, dargli importanza a questa parola che è l'amore, ma non nel senso di smanceria o di sdolcinatezza. No, amare nel senso di partecipare con lui, dargli importanza, dargli il suo valore. Quanto valore do al mio cuore, se poi non lo ascolto. E poi andare al cuore delle cose. Magari questo simbolo ci vuole suggerire che in questo momento della nostra vita noi dobbiamo sprofondare un superfluo, magari in una certa situazione, e andare al cuore del problema, andare al nodo della situazione. Oppure andare in profondità di quello che stiamo vivendo, di quello che stiamo studiando, di quello che stiamo facendo, di non restare solo sulla superficie. E ancora potrebbe voler dire che c'è la necessità di pulire il tuo cuore. E mi viene in mente questa frase perché siamo proprio nel periodo della quaresima, abbiamo appena vissuto Candelora, siamo in quel periodo dell'anno in cui fino a marzo, fino all'equinozio, c'è questa energia di rinnovamento, di pulizia, come sono le pulizie di primavera. Si toglie il vecchio, si toglie quello che c'è di più per far uscire quello che serve, il concentrato, il nostro seme, quello che è dentro di noi. E che forse se è coperto da rimpianti, da rimorsi, da rancori, da rabbia, da dolori, da ferite, da vergogna, da paura, da senso di inadeguatezza, da ambizione, da necessità di essere approvati, riconosciuti. Ecco, forse se il nostro cuore è nascosto sotto tutta questa roba, fa fatica questo semino a far uscire il proprio essere, il proprio essere autentico, il proprio sbocciare a primavera. E così, se abbiamo desiderio di fare sbocciare a primavera i nostri desideri, o semplicemente essere autentici, che è la felicità in assoluto, la bellezza di essere ciò che si è. Nella semplicità, quindi pulire il cuore per togliere tutto quello che c'è in più, che non serve e far uscire nella semplicità la gioia, il respiro, toglierci da sottovuoto. Oppure questo simbolo arriva semplicemente perché l'universo ti dice che sei amata.